A voi tutti ben ritrovati amici di Rete7, un cordiale saluto dal vostro Giuseppe De Vittis. Cosa accadrà nella giornata di giovedì, 8 marzo, tra l'altro festa della donna? Beh, o buone notizie per le donne? La giornata sarà tutto sommato buona con un po' di velature che però aumenteranno nel corso della giornata. Risveglio in pianura con foschie e banchi di nebbia, non sono previste precipitazioni nemmeno nella seconda parte della giornata in linea generale anche se qualche piccolo episodio, vedete, al confine più settentrionale tra Piemonte e Lombardia di Piovasco ci potrà essere. Altrove, vedete, nuvolosità per lo più medio alta, innocua, quindi una buona giornata. Aumenterà tra l'altro la nuvolosità col passare delle ore, pomeriggio e sera, mattinata ancora con velature, qualche raggio di sole non lo escludiamo. Le temperature, beh, le minime ancora attorno allo zero, leggermente al di sopra, le massime, invece, guardate, decisamente più miti, ormai stanno aumentando qualche piccolo segnale, finalmente di primavera si intravede ed in effetti le temperature massime saranno comprese tra gli 8 e i 14 gradi. È tutto cari amici, buon proseguimento di settimana, buona festa della donna a tutti, arrivederci.